Ben ritrovati, siamo qui in diretta, accanto a me due ospiti, oggi parliamo del Cervignano Film Festival e quindi diamo il benvenuto a Giacomo Ponta e Luca Visentin, buongiorno e benvenuti, ben ritrovati. Allora, caro Giacomo, io partirei proprio da un po' di storia, di excursus del Cervignano Film Festival che è un appuntamento che si ripete ormai da quanti anni? Allora, siamo arrivati quest'anno alla settima edizione. Ah, quindi insomma si diventa grande. Eh sì, cioè è un numero importante anche per noi, infatti ieri guardavo il catalogo e dicevo che aspettessimo già a sette. Abbiamo i cataloghi freschi, freschi di stampa, vi ricordo anche che c'è un sito cervignanofilmfestival.it aggiornato dove potete trovare tutto il programma, il festival. Allora, questa settima edizione si terrà dal 23 al 27 ottobre. Allora, iniziamo la prossima settimana, diciamo il festival giunge alla settima edizione ed è un'iniziativa promossa dal Recreatorio San Michele di Cervignano e di fatto l'idea è stata quella, diciamo, un'idea che nasce comunque dai giovani perché comunque il Recreatorio è un centro di associazione giovanile essenzialmente e quindi di fatto qualche anno fa ci siamo detti ma perché non facciamo un festival di cinema comunque insomma siamo partiti con l'idea dei cortometraggi e un po' questa cosa ci è esplosa in mano nel senso che poi adesso i cortometraggi per diversi anni abbiamo avuto un concorso videoclip poi adesso i videoclip diciamo li abbiamo un po' abbandonati e ci siamo più portati verso diciamo delle nuove frontiere tant'è che dall'anno scorso abbiamo anche un concorso dedicato proprio alla virtual reality quindi diciamo all'utilizzo di questi visori per fruire appunto di cortometraggi che permettono comunque un'esperienza maggiormente immersiva anche un po' più intima se vogliamo dire e quindi di fatto è un festival in evoluzione che vuole anche analizzare nuovi linguaggi infatti ogni anno abbiamo una tematica che ci fa da fil rouge diciamo da guida alcuni anni parlavamo di letteratura e cinema, cinema e musica e dall'anno scorso siamo più sul cinema e videogame nel senso che vogliamo diciamo analizzare il cinema come qualcosa di interattivo che interagisce col pubblico e quindi quest'anno appoggiandoci un po' alla tematica dell'anno scorso che ci era tanto piaciuta e riprendiamo appunto la tematica non tanto del videogioco ma proprio del cinema che vuole interagire e che vuole anche analizzare i nuovi media che sono a nostra disposizione insomma nuove frontiere per il cinema che diciamo vive probabilmente un periodo di grande cambiamento anche alla luce della concorrenza, delle serie tv, proprio anche del mondo dei videogiochi della realtà aumentata sì diciamo che ormai il cinema sta un po' sconfinando nel senso che adesso facetemi il termine non abbiamo più lo spettatore puramente passivo che si mette lì e subisce che poi non è mai un subire perché comunque il cinema ti porta a riflettere, ti porta a un confronto però appunto è un cinema che vuole mettere in discussione e vuole stuzzicare lo spettatore perché anche lo spettatore si mette in moto maggiormente e quindi appunto abbiamo anche i videogiochi che mai come negli ultimi anni sono puramente cinematografici nel senso che ci sono esperienze videoludiche che durano 200-300 ore in cui uno vive un film in prima persona e quindi anche il cinema ovviamente deve un po' ibridarsi con questi linguaggi nuovi e noi cerchiamo di proporre anche questo tipo di cinema oltretutto insomma anche i grandi registi insomma cercano anche con le nuove tecnologie chiaramente si può fare e usare molto di più leggevo appunto, io non l'ho visto personalmente, Gemini Man che insomma è stato realizzato con delle tecniche particolari quindi insomma appunto grandi cambiamenti, un po' tecnologia, un po' anche seguire quello che è il corso dei gusti insomma degli spettatori voi però avete a che fare con corti quindi anche con produzioni soprattutto mi pare di giovanissimi giusto Luca? Sì certo, diciamo che da parte... E cosa propongono questi ragazzi, questi giovani? Beh, propongono sicuramente le tematiche adolescenziali e quelle legate al mondo anche dell'infanzia nel caso della scuola elementare di Fossalon che ha inviato un corto al Ciliano Film Festival e diciamo che c'è un filo conduttore di questa edizione mentre negli anni passati diciamo arrivavano opere più corali in questa edizione c'è molto presente il filone esistenziale cioè sia nel concorso diciamo internazionale sia in quello dell'infanzia Giulia ma anche in quello delle scuole c'è questo rapporto introspettivo tra il sé e diciamo così il mondo esterno comunque sono tutti film di elevata qualità e soprattutto quelli delle scuole sono arrivati anche da istituti superiori molto diversificati Di tutta Italia, giusto? Di tutta Italia, addirittura dalla Sicilia, da Catania e che questo è una conferma del trend del fatto che il Ciliano Film Festival attrae molti diciamo film e molte scuole che vogliono partecipare a questo concorso Soprattutto trovo positivo che le scuole facciano, partecipino a questi concorsi e diano la possibilità ai ragazzi di creare Certo, diciamo che sono scuole comunque metropolitane o comunque di città medio-grandi pur essendo arrivati anche dei corti da scuole più piccole Comunque c'è una bella diversificazione anche negli istituti nel senso che arrivano sia da parte di licei sia da parte di istituti tecnici Però è importante conoscere il linguaggio cinematografico comunque dare ai ragazzi l'opportunità di approcciarsi a questo perché comunque è proprio forse adesso più di prima insomma servono delle basi per poter orientarsi e interpretare anche quello che vediamo È sempre una forma d'arte Diciamo che il cinema è forse più legato al contesto umanistico letterario però comunque c'è anche una parte scientifica e tecnica e quindi coinvolgere i ragazzi li coinvolge sia per quanto riguarda le scienze umane o comunque quell'ambito di sapere sia per quanto riguarda il sapere tecnico-scientifico Che può essere quello più accattivante Certo, perché fare cinema presuppone una certa tecnicalità negli oggetti conoscere le inquadrature anche conoscere per esempio la geometria conoscere diciamo così come funzionano la scala cromatica e quindi è una tematica che sta a cavallo tra il mondo umanistico e il mondo scientifico e quindi permette di vedere le cose in una certa globalità e quindi anche i docenti sono contenti per avere appunto questo rimbalzo continuo tra tecnico-scientifico e campo umanistico Certo, però non solo di corti vive il Cervignano Film Festival io stavo sfogliando il catalogo e vedo insomma degli autori interessanti Joe Dante, Fastband War Games, giochi di guerra bellissimo, proiettate anche quindi delle cose dici qualche cosa, svellaci qualcosa insomma abbiamo come sempre oltre ai concorsi classici appunto abbiamo detto quindi cortometraggi, scuole e virtual reality abbiamo quindi anche diciamo un po' dei chiamiamoli titoloni insomma allora iniziamo mercoledì sera che c'è la serata inaugurale proietteremo Kino Automat che appunto sarebbe di fatto il primo film interattivo della storia se vogliamo definirlo così è un film del 67 che è stato presentato all'Expo di Montreal per il padiglione circoslovaco che appunto fa una sorta di satira possiamo definirla così un po' della democrazia anche della situazione a Praga di quegli anni essenzialmente di audace perché il 67 insomma e di fatto è un film che in nove momenti si prende una pausa e rompe diciamo questa figura sulla scena ovviamente rimanendo sempre all'interno dello schermo e pone diciamo un bivio al pubblico chiedendogli appunto di scegliere tra una scena e l'altra che poi di fatto in realtà è una finta scelta in quanto il film appunto fa una satira della democrazia per cui il pubblico pensa di star scegliendo ma in realtà il filone direi che allora è più che mai attuale lo stesso sì ma è molto attualissimo diciamo che quindi non immaginiamoci una cosa alla Bandersnatch di Black Mirror diciamo di Netflix dove effettivamente ogni scelta ha una conseguenza però appunto diciamo un film che vuole portare a riflettere in quella direzione però già il fatto che provi a dialogare con il pubblico cioè un film che appunto dialoghi direttamente col pubblico costituisce comunque una novità per il linguaggio cinematografico certo poi abbiamo nei pomeriggi di giovedì e di venerdì proiettiamo Welt am Dratt di Fassbinder è un altro regista tedesco e il film l'abbiamo diviso in due pomeriggi perché è un film di lunga durata adesso che parliamo di 205 minuti e quindi non si scherza non si scherza con questo regista ok è un film per la televisione in realtà del 73 che è stato recentemente restaurato la versione restaurata l'hanno presentata di recente al Festival del Cinema di Berlino e noi appunto riproponiamo questa versione qua viene comunque introdotto da delle masterclass del professor Quaresima ordinario di Udine che è un esperto di cinema tedesco insomma lui si occuperà di introdurre il pubblico a questo film che comunque tratta anche queste tematiche molto interessanti in quanto si occupa di mondi paralleli e quindi anche di realtà simulate se possiamo definire così e poi abbiamo la serata di sabato sera che proiettiamo il documentario su Il Leggio che è insomma il miracolo di Il Leggio molto recente appunto che parla della nota mostra di Il Leggio che ormai dal 2004 insomma ogni anno fa parlare di sé e parla di fatto della difficoltà di trasportare le opere appunto di creare ancora la mostra in un luogo geografico come Il Leggio perché comunque si tratta di un paesino di montagna per cui non è proprio facilmente raggiungibile ma anche dell'impatto che la mostra ha avuto sul paesino perché comunque Il Leggio è molto piccola e la mostra ha avuto un impatto nazionale anche internazionale non indifferente e quindi il documentario vuole proprio analizzare diciamo anche come la popolazione del luogo insomma ha gestito e ha reagito soprattutto a questa mostra quindi insomma la serata conclusiva è quella di domenica di domenica ci sono le premiazioni domenica sera di solito erano il sabato quest'anno abbiamo preferito dedicare il sabato al Friuli diciamo in quanto oltre Il Leggio abbiamo anche tre cortometraggi friulani sì uno mi interessa molto anche Ossi come si dice Zinner Zinner dedicato all'artista insomma sì tra le altre cose è la regia del nostro primo direttore artistico del festival Piero Tomaselli è un documentario mi diceva prima Luca sì è un documentario dedicato a quest'artista che aveva preso casa a Ruda Saciletto di Ruda che è questo borgo vicino a Cerviniano del Friuli e si vede appunto quest'artista di antiche origini asburgiche austro-ungariche anche qui torna al tema del limite e del confine che vive in questa villa anche in situazioni un po' difficili di degrado ma trova nell'arte soprattutto nell'arte grafica nei quadri soprattutto nelle incisioni nelle acque forti eccetera un modo per uscire da questa sua condizione così dimenticata dal dal mondo e dalla storia momentaneamente per appunto esprimere anche un suo disagio interiore perché lei viveva appunto in questa situazione molto spesso non mancavano atti di vandalismo diciamo nei confronti del della villa di questa abitazione lei trova questo modo nell'arte per uscire da questa sua condizione così difficile e appunto è un documentario molto bello perché ricorda i fasti di questa villa ancora seicentesca quindi la struttura architettonica seppur così un po' faticente all'interno con un artista che ricorda ancora i tempi in cui Cervignano era sotto il dominio asburgico lei era nata a Vienna però di origini ungheresi quindi c'è tutto quel mondo della mitte l'Europa e diciamo che è molto emozionante come documentario ci sono diverse interviste ad esperti al sindaco di di Ruda dell'epoca che sono commossi quasi per diciamo così nel raccontare la storia di quest'artista che ha conosciuto diverse epoche diverse fasi storiche e che appunto ha fatto dell'arte la propria ragione di vita anche negli ultimi anni che erano così difficili e appunto non sempre in sintonia con il mondo esterno allora come vedete un programma molto ricco purtroppo abbiamo pochissimo tempo quindi io vi ricordo l'appuntamento dal 23 al 27 a Cervignano il sito internet Cervignano Film Festival dove trovate tutte le informazioni con il programma i premi i vari focus le masterclass tutte le proiezioni la possibilità di assistervi naturalmente e che dire un fine settimana ricco segnatevelo sul calendario insomma il prossimo sapete dove potete trascorrere qualche qualche ora di insomma in buona compagnia e soprattutto fare degli approfondimenti mirati su le nuove frontiere diciamo del cinema allora grazie Giacomo Ponta Luca Visentim grazie per essere stati con noi ci prendiamo una piccola pausa pubblicitaria e torniamo sempre qui in diretta